Ciao a tutti. Volevo dire che io sono un ragazzo serio con delle grosse responsabilità. Molte volte mi lascio un po' andare perché sono una persona molto sola e non avendo un amore reale me ne sono creato ommo in fantasia. E' anche un nome a volto. Si chiama Marina Chiladesi ed è un'attrice protagonista secondaria di un posto al sole, la sua popera di Eretria. Da quanti tanti c'è lei, devo dire che sono rimasto molto colpito dalla sua bellezza e dal suo carattere, nella sua optica. E così non potendo mettermi in contatto con lei direttamente, tramite le lettere, come fammi fan, perché non c'ho l'indirizzo. Allora le dedico a questi video che faccio. Insomma diciamo che sono un po' innamorato. e lo so che... No, sono un fan più che altro, ecco, sì. Sono un fan di Marina Chiladesi e le dedico le mie lettere d'amore che metto nei miei video nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Speriamo di essere felici nel futuro e nel presente. E perché non è stato nel passato ci saranno a morte di farci. a tutti. Grazie.